Laboratori in aula, servizi di sportello e incontri dedicati per scoprirsi, misurarsi ed essere valorizzati. Il comune di Fano mette i giovani al centro del proprio futuro, con il tavolo di orientamento permanente che è stato ricostituito e potenziato. Grazie ad una condivisione più ampia, l'assessore alle nuove generazioni Barbara Brunori ha riunito tutti gli attori coinvolti per un nuovo sistema che vuole accompagnare i ragazzi nella scelta della scuola di secondo grado, con uno sguardo rivolto anche all'inserimento nel mondo del lavoro. Tra gli obiettivi rientra quello di contrastare la preoccupante emergenza, sempre più accesa, dell'abbandono e della dispersione scolastica. Consiste nell'accompagnare tutto quello che è l'attività didattica, ma di crescita e di scelta dei ragazzi, verso il loro futuro, perché i ragazzi hanno proprio bisogno di essere aiutati ad aiutarsi per acquisire un'autonomia nelle scelte e una conoscenza di tutte quelle che sono le opportunità territoriali. Il tavolo, infatti, è stato allargato alle sigle sindacali, ai rappresentanti dei centri per l'impiego, l'agenzia formativa Digital Smart di Fano, sotto un coordinamento del personale del servizio d'edalo. Perché il ragazzo, sperimentando, acquisisce ancora maggiore consapevolezza di quelle che sono le proprie inclinazioni. Per cui, ecco, il favorire una struttura proprio di lavoro e anche di pensiero, attraverso il cui i nostri giovani oggi possano orientarsi verso la loro strada, è determinante. È chiaro che questo tavolo, che è già partito, siamo al terzo incontro, è partito a pieno ritmo, siamo molto contenti, stiamo già nel prossimo incontro, penso che andremo a definire quello che è un programma di lavoro. Questo programma proprio prevede delle azioni che saranno rivolte anche ad un aiuto, ci candideremo anche per avere dei finanziamenti da parte della Regione, per essere sostenuti nelle varie attività che si concluderanno nel settembre, con quello che poi è l'evento di fine anno, proprio di orientamento dei ragazzi. Che quest'anno, proprio questa rete, il servizio Fano TV, ha promosso con determinati servizi sulle scuole, perché ahimè il Covid non ha permesso alle famiglie, dico le famiglie perché è fondamentale anche l'aiuto proprio dei genitori nell'accompagnamento di questi ragazzi, a farsi e ad accompagnare i propri figli verso la scelta migliore. Gli speciali andati in onda su Fano TV sono disponibili sul nostro canale YouTube e sul sito occhioallanotizia.it